Anche questa è arte, il deposito dei colori nel tempo, perché queste cose qua sono una testimonianza della sofferenza che ha avuto l'umanità nel suo percorso e l'emancipazione. Quanti anni hai? Cinque anni. Poi ho tentato anche sui scelte, però non ci sono i scelte. Ho totalizzato 20 ricoveri, perché sono tanti. Da un'altra parte sono connello perché sono un po' in vita, ma da un'altra parte quando uno soffre tanto mentalmente fa mano libera. Ma la fidanzata, lo sai, mi regina tanto, si prende i colori e si stira. Perché io sono fratello, sono fratello a Tom Cruise. Il Torino potrebbe dare una grandissima mano, però sarei veramente contento che ci sono scelte. Cioè sarei trasportato dal Torino a una nuova rinascita. Il capitale finanziario oggi cerca di fare una poltiglia di questo denaro, di questo capitale, di questi titoli di credito, di questa carta moneta. Questa è Juventus, fatta dallo zio. E tu vai a vedere la partita? No, io ho andato una volta, sono stuprato, mi sono stuprato, non vi ho andato. Le mie emozioni, da quando sono nato, durano, vengono, restano e viviamo insieme. Forse moriremo anche insieme.